La siccità, quali sono le azioni che... Anche per la segreteria provinciale del Partito Democratico il segretario nocerino Francesco Scarfò non può ricoprire ruoli in amministrazione. Lo ha ribadito in mattinata la nostra redazione Enzo Luciano, a capo del PD provinciale e ieri sera per la seconda volta presente ad una riunione del direttivo nocerino. A quattro mesi dalle elezioni regionali non possiamo permetterci di perdere la figura politica più importante, ha detto il segretario salernitano, non che si ravvisi una incompatibilità tra la carica di assessore e del ruolo politico ma l'impiego in amministrazione distrarrebbe dal lavoro politico che in questi mesi c'è da fare. Oltretutto per la nomina di un altro segretario ne passerebbe troppo tempo, tempo che in questa fase proprio non c'è. Sembra essere piombato in un Vietnam nocerino il Partito Democratico, una palude nella quale è stato ricacciato dal sindaco Amaglio Torquato che nella volontà di rimodulare la sua squadra aveva avanzato la proposta di nomina a Scarfò quale esperto strategico per l'esecutivo, ma non aveva fatto i conti con lo scatto d'orgoglio dei quattro consiglieri comunali stile Giordano De Maio e Pepe che si sono opposti fin da subito all'idea del segretario assessore e che ieri sera hanno sbattuto la porta lasciando la riunione. Pur ribadendo pieno appoggio alla maggioranza Torquato, cosa che da Salerno non è mai stata emessa in discussione, il PD farà le sue scelte al suo interno e lei comunicherà al primo cittadino. I matrimoni si fanno in due, ha continuato il segretario Luciano, ed al sindaco, con il quale non ho ancora interlocuito ma lo farò appena pronti, comunicheremo entro poche ore la nostra scelta ed insieme a lui troveremo la quadra. Che la questione nocerina stia assumendo toni preoccupanti lo si capisce dalla presenza, per la seconda volta in pochi giorni, del segretario provinciale che ieri sera ha preso parte all'ennesimo direttivo del PD cittadino, conclusosi con una sbattuta di porta di consiglieri comunali che dell'assessorato al segretario locale Scarfò proprio non vogliono saperne. Restano fermi sulle loro posizioni e sono disposti a rinunciare anche ad un secondo posto in giunta pur di non darla vinta all'ex assessore. Resta invece blindata la posizione dell'assessore Federica Fortini, mentre con le valigie pronte sembra essere l'avvocato Gianfranco Trotta, peraltro gongolante dopo averla spuntata al Tar per conto dell'amministrazione Torquato su una cherella importante non solo per il comune nocerino, la sentenza sul trasporto disabili. E così, mentre il sindaco Torquato era in attesa di una decisione del Partito Democratico per annunciare la composizione della nuova giunta, almeno pare, il tavolo del PD si rompeva ancora una volta con un nulla di fatto, tutto rinviato e tutto appeso alle decisioni del Partito Democratico, anche se c'è chi è pronto a scommettere che la crisi dell'unico partito politico presente in maggioranza sia l'opportunità per una virata a 360 gradi dell'amministrazione nocerina.